Batti Paiese sempre più attiva sul mercato in ingresso per rinforzare la rosa disposizione del tecnico Tudisco in vista del prossimo campionato. Ieri la società bianconera ha ufficializzato l'acquisto di due difensori, Generoso Di Martino, classe 2000 dalla Giffonese, ed Emilio Criscuolo, già in maia bianconera lo scorso anno. Il team di Patron Palmentieri ha inoltre annunciato anche l'arrivo di un nuovo attaccante, il 28enne Luca Borrelli, ex a Fragolese, Graniano e Nola. Nel mercato in uscita invece si registra l'addio all'athleta Edmondo Campione, seppur avendo trovato l'accordo economico, le perplessità del giocatore hanno indotto la società ad interrompere il rapporto.